Estra ha deciso di estendere alle bollette emesse fino al 30 aprile il periodo per rateizzare fatture superiori a 150 euro. Il piano può arrivare fino a 7 rate per importi oltre 2500 euro. Le rate per bollette luce gas oltre 150 euro sono applicate senza spese né interessi alle fatture in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Le rate possono essere richieste da tutti i clienti Estra. Più di 40 comuni hanno partecipato agli incontri di Arezzo, Prato e Siena su l'energia della condivisione nei quali Estra ha presentato il proprio progetto per sostenere la formazione di comunità energetiche. Nuove segnalazioni di truffe telefoniche Estra informa che non chiama i propri clienti per proporre variazioni di tariffe o listini e ricorda che si può recedere entro 14 giorni lavorativi da contratti già firmati.